buongiorno siccome il primo canale che ho fatto che è uno dei più rivoluzionari più creativi di youtube con cui avevo un sacco di follower di persone che mi seguivano molto creativo ho fatto la parodia di asergento la parodia di maria di filippi di ho fatto di vari film di dario argento eccetera era un bel canale proprio e me l'hanno segnalato perché io ho fatto emulato un orgasmo tipo se di eri ti presento se di e poi per delle mie foto un po un po se da lì ho capito quanto è bigotto e puritare moralista il popolo del web